In generale i provvedimenti sul coronavirus ci stanno mostrando molte contraddizioni, ci stanno mostrando molte strutture del nostro sistema di stile di vita e del nostro sistema economico. Abbiamo visto cosa vuol dire la riduzione degli spostamenti sulla qualità dell'aria, soprattutto nel bacino padano, abbiamo visto quanto incida sulle emissioni di CO2 e l'uso ormai sempre più forte del trasporto aereo. Un tipo di attività che incide pesantemente sul cambiamento climatico. Un cambiamento di cui vediamo gli effetti in modo radicale anche in questo momento. Non abbiamo avuto in pianura padana un inverno e si profila all'orizzonte una crisi idrica per la primavera e estate a seguito della mancanza di piogge. Quindi un'ulteriore bastonata sul mondo economico, in particolare su quello agricolo che ha già risentito di gelate tardive pochi giorni fa. Questo ci richiama la necessità di risolvere non solo la crisi sanitaria del virus, ma a pensare che modello economico dobbiamo costruire. Oggi ha maggior ragione con le ingenti quantità di risorse che i vari livelli amministrativi stanno mettendo in campo. La Regione Emilia Romagna di recente ha fatto una piccola manovra di bilancio ed è bene che si cominci a pensare ad un patto pubblico-privato per cui il pubblico necessariamente immette risorse nel sistema, ma in cambio è necessario chiedere una transizione verso modelli ecologici più sostenibili e più inclusivi.